Grazie Presidente, ma in cosa vi siete trasformati? Come vi ha ridotto questo palazzo? Possibile che vi scandalizziate? Perché un mio collega dice che la sanità pubblica fa schifo, certamente non sta parlando di egregi dottori o impiegati nella sanità, ma appunto è il modo in cui la politica l'ha ridotto. E non vi siate scandalizzati quando qualche settimana fa un ospedale pubblico a Caserta è stato sciolto per Camorra? Ma non vi vergognate a stare zitti di fronte a queste schifezze e ad attaccare qualcuno che vuole fare chiarezza? Non vi vergognate, dato che si tratta di Camorra, Presidente, pensando al fatto che ieri si è arrivata la richiesta di arresto di un componente della Commissione Antimafia, un parlamentare di Forza Italia, che si siete lì, che pare sia l'infiltrato dei Casalesi di una banda di poste qui nella Commissione Antimafia. Che cosa siete diventati? Siete complici di un sistema marcio che usa le infiltrazioni anche della Camorra per distruggere la sanità pubblica e il Parlamento della Repubblica. Grazie, onorevole Battista.